La Polizia di Stato ha fatto luce su tre rapine violente commesse a Palermo ai danni di un distributore di carburante di due supermercati utilizzando auto rubate poi date alle fiamme e una pistola salve. In un caso l'auto data alle fiamme ha ristiato di coinvolgere uno stabile nel rogo. La facciata è stata annerita prima che i pompieri potessero spegnere le fiamme. Il Jeep Clelia Maltese ha disposto il carcere per Gianluca Cintura 25 anni e Vincenzo Filippone di 22 e i domiciliari per un terzo indagato Gaspare Emanuele Ribaudo di appena 19 anni. Gli episodi contestati risalgono al 18 gennaio 23 e 26 agosto. La banda utilizzava sempre lo stesso modus operandi dopo aver rubato un'autovettura una Fiat Panda per tutti e tre gli episodi usando una pistola salve priva di tappo rosso faceva interruzione in un esercizio commerciale scarrellando con la pistola come per inserire il colpo in canne seminando il panico tra i clienti puntando l'arma alla tempia dei castieri per farsi consegnare l'incasso. Subito dopo il colpo i tre abbandonavano l'auto rubata utilizzata per compiere la rapina avvolta dalle fiamme in strada. In uno degli episodi quello risalenta lo scorso gennaio presso il distributore di carburanti Eni Torre Bonagia la prontezza nella fuga dei dipendenti ha lasciato la banda di soppiatto tanto da essere costretta a fuggire senza bottino. Per gli altri due episodi nel giro di tre giorni dal 23 al 26 agosto sono stati presi di mira due hard discount quello di via Placido Rizzotto e quello di via Gaetano Mosca il bottino è stato di 500 euro nel primo e 1500 nel secondo caso.